Lei cosa pensa di questa sentenza di primo grado? Pensa che non essendoci prove certe e concrete, si sarebbe dovuto fare in modo un po' diverso. Quindi è fiducioso per il secondo grado? Fiducioso sì, perché vedendo le altre... adesso siamo stati chiamati a difenderci Catania e Teramo. Tra il Catania e il Teramo ci sarà un abisso. Che devo pensare? È una sentenza ridicola che non tiene conto... Per essere conto a noi ci vogliono le prove certe al 100%, qua le prove certe tutte congetture e indizi io non le vedo. Poi se qualcuno ha fatto qualcosa io non lo so, perché io sono un tifoso del calcio giocato, a me delle aule tribunale non me ne frega. Ma è fiducioso per il secondo grado? Speriamo sì, però voglio dire una cosa sull'Artico. Artico o a zero o a meno 20, sempre Artico 6. È stato tutto già programmato e dalla Lega e da chi comanda il settore del calcio. La sentenza è già scritta quindi? Già scritta sicuramente, sicuramente. Sono fiducioso e sono convintissimo che si ribalderà tutto, perché questa sentenza è scritta a parte male, ma poi non ci sono realmente nessun tipo di prova. E la vera convin è stata fatta adesso con l'Ascoli e con altri soggetti. Secondo lei il Teramo dà fastidio a qualcuno nel palazzo? No, il Teramo dà fastidio perché ha dimostrato di essere il più forte, ha vinto il campionato veramente sul campo, cosa che non è successo per l'Ascoli. No, io non lo so, non lo seguo il pallone. No, avrà saputo? Sì, come no. Per Teramo è una brutta tegola? Ah, soltanto. Ma Feneghe, se non dovete essere lì, non ci vogliono. Non l'avete capito ancora? Perché non vorrebbero il Teramo d'Ascoli? Questo secondo me è una questione di soldi, non lo so, ma qualcosa c'è sotto. È una sentenza scandalosa, è scandalosa la sentenza. Perché? Tutto ha paurell'Ascoli. È complice, è complice, perché da lì è partito. Lei è fiducioso per il secondo grado? Beh, no, non sono fiducioso. Io sono fiducioso. Con questo ricorso. Al presidente Campitelli cosa si sente di dire? Il Tassu Colle. Deluso e dispiaciuto, perché siamo stati condannati su qualcosa che probabilmente non esiste, quindi aspettiamo, vediamo. Con fiducia? Ma certo che sì. Ma quello che ha fatto la richiesta, il giudice, che era... Palazzi? No, sì. L'ugenza l'ha fatta, è il genere di Palazzi, vero? Ma non vengono le poltroni, insieme, no? Ma era una richiesta troppo eccessiva. Dopo tutto... Tutti i massi meglio, tutti contro il termo. Ma è stata proprio una richiesta assurda. Secondo lei è una sentenza anche politica? Come no? Ascoli spinge... Fiducioso comunque per la sentenza. Come no? Adesso festeggerò gli Ascolani, i Forlivesi, Su e il Gubbio. Dopo festeggeremo noi, il 31. Uno. Questa è la sentenza.